Per Vivo Umbria, Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria. Sì, siamo qui stamattina per protestare contro questa norma della regione che permetterebbe un uso indiscriminato di sentieri, mulattiere e tutto il patrimonio boschivo per andarci con qualunque mezzo a motore, salvo che non ci sia un cartello che ovviamente non hanno i comuni ancora le risorse per poter anche sottocensire tutti questi map, sentieri e percorsi, tanto più metterci dei cartelli. Speriamo in un ripensamento perché è una norma folle che ci caratterizza in Umbria come un unico a livello nazionale per questo uso indiscriminato del nostro enorme patrimonio boschivo con danni economici e all'ambiente.